Ciao Francesco, Alessandro a più pazienza, vuoi rifare se inizia il video, sei pronto? Siamo pronti? Con chi siamo noi? Che pilota tandem ci hanno aggiudicato? Alessandro? Sì, perché siamo qui, perché siamo qui, perché siamo qui, perché siamo qui, perché era il tuo l'espo che amava, per il tuo l'espo. Sì, perché siamo qui. Sì, perché siamo qui, perché siamo qui, perché siamo qui. Sarebbe a rifare su un frutto. Mamma mia, che spettacolo. Tutto bene? Perfetto. Alla grande. Alla grande.